Questa mattina alcuni papà separati che hanno avuto difficoltà di incontrare i loro figli hanno protestato davanti al tribunale di Nocera. Fanno parte dell'associazione Padri Separati, fuori dal silenzio. Allora, se questi papà hanno le carte in regola e non sono persone violente e non sono persone con problemi, hanno il sacrosanto diritto di stare con i propri figli al pari delle madri, questo è il mio appello, questo è quello che dirò al Presidente del Tribunale che ci riceverà. Non parlerò di me, non parlerò di altri, parlerò del problema in generale che il Presidente possa riunire tutti i giudici della sezione civile di Nocera e Inferiore e sensibilizzarli su questo problema. Ci sono tempi biblici per le udienze e nel frattempo nemmeno i papà aspettano, i bambini aspettano di vedere i propri papà. La legge, la 54 del 2006, che parla dell'affidocondiviso, che è un'ottima legge. Questa legge io non posso dire che i giudici non la applichino. Noi abbiamo provvedimenti che, non nel mio caso, ma è stato prima, lo spero sarà dopo, in tanti casi di altri papà, dove sono previsti diritti di visita per quattro volte a settimana. Il problema, lo sa dove sta, il problema è che non vengono temperati. Quindi le madri non accompagnano i bambini a casa del padre, millantando malesseri dei bambini. Quindi a quel punto i diritti di visita si riducono allo stretto, i figli non li riconoscono, più i propri papà. E' questo lo scempio che deve finire. Sono diritti che sono messi solo sulla carta. E' messo sulla carta il mantenimento, è messo sulla carta il diritto di visita, è messo sulla carta la scolarizzazione. Non decidiamo nulla e siamo stanchi, perché questi bambini hanno il nostro cognome e hanno diritto di crescere tanto con la mamma quanto con il loro papà. Che dalla mattina alla sera veniamo privati dei nostri diritti, non siamo più padri, siamo degli aggressori, dei violenti, ci disinteressiamo della loro vita e tutto questo purtroppo viene perperato alla giustizia che a noi non ci dà la possibilità di far valere i propri diritti. Io sono tre anni che non sono stato ascoltato in tribunale, magari Marco ha fatto già un sacco di udienze e sono stato pure condannato. Quindi a mio avviso credo che sarà il minimo di 10 anni, se tutto va bene. Lei riesce a vedere il suo figlio e i suoi figli? Ho lottato, per i primi due anni, un anno e mezzo, il mio primo genito che era cresciuto con me rifiutava di venire a casa, crisi isteriche, piangeva, non voleva stare con me. Poi dopo un percorso di due anni, oggi attualmente il primo lo vedo frequentemente, il secondo è ancora più piccolino, saltuariamente non viene, però diciamo sono riuscito a ristabilire un po' i rapporti. Che cosa prova lei quando magari non riesce a vedere i suoi figli? Quello che prova tutti i genitori, penso che lei è un genitore pure lei, se gli dovesse il vostro figlio che è cresciuto, sangue vostro, non lo so cosa potrebbe provare anche lei.